Velocissima, velocissima. E cosa ne pensa di questo? Che significa questa presenza? Per una volta qui al coro. Questo premio per i giovani studenti di Teramo. In assoluto una bella iniziativa, una bella iniziativa. Sono qui, sono stato anche l'anno scorso, quindi c'è anche il ministro Manfredi. Quindi il governo vuole dare un segno importante, vuole dare un segno importante perché dobbiamo investire di più nell'università, nella ricerca. Dobbiamo investire nel capitale umano, dobbiamo investire i nostri giovani. Mi fa piacere anche che ci siano i premi per i giovani, quindi è un segnale importante che stiamo dando. I giovani devono avere la nostra fiducia. E ricordiamoci sempre, dico io, questo programma che adesso siamo sollecitati, spinti a fare con tutta la forza, la tenacia, la capabilità della comunità nazionale, è un programma che nasce da risorse finanziarie europee che si inquadra in un programma che si chiama La prossima generazione dell'Unione Europea, Next Generation Youth. È un programma rivolto ai giovani, dobbiamo lavorare per loro. Grazie. Grazie Presidente. Grazie a tutti.